Annabeth Un mare di semidei adunati in fretta e furia si aprì per consentire ad Annabeth di attraversare il foro. Alcuni sembravano tesi, altri nervosi. Qualcuno portava le bende della recente battaglia contro i giganti, ma nessuno era armato. Nessuno attaccò. Intere famiglie erano corse a vedere i nuovi arrivati. Annabeth scorse coppie con neonati, bambini aggrappati alle gambe dei genitori e perfino anziani, in una mescolanza di vesti romane e abiti moderni. Erano tutti semidei? Credeva di sì, pur non avendo mai visto un posto del genere. Al campo mezzosangue quasi tutti i semidei erano ragazzi. Se vivevano abbastanza da diplomarsi alle superiori, rimanevano al campo come capigruppo, oppure se ne andavano a vivere come meglio potevano nel mondo mortale. Quella, invece, era un'intera comunità multigenerazionale. Ai margini della folla, Annabeth riconobbe il ciclope Tyson e la signora O'Leary, il segugio infernale di Persi. Erano stati loro i primi esploratori del campo mezzosangue a raggiungere il campo Giove. Sembravano di ottimo umore. Tyson la salutò con la mano e sorrise. Indossava uno stendardo con su scritto SPQR, a mo' di bavaglino gigante. Una parte della mente di Annabeth registrò quanto fosse bella la città. Il profumo dei forni, le fontane gorgoglianti, i fiori che sbocciavano nei giardini. E l'architettura. Colonne di marmo dorato, mosaici meravigliosi, archi monumentali, ville e giardini pensili. Santi nomi, che splendore! Di fronte a lei, i semidei fecero largo a una ragazza in armatura romana e mantello viola. I capelli scuri le ricadevano come una cascata sulle spalle. Gli occhi erano neri come ossidiana. Reina. Jason l'aveva descritta bene. E anche se non l'avesse fatto, Annabeth avrebbe capito comunque che era a lei a comandare. Aveva un'armatura decorata di medaglie e incedeva con una sicurezza tale che gli altri semidei arretravano ed evitavano il suo sguardo. Annabeth riconobbe anche altro sul suo viso, nella piegadura della bocca e nel modo deciso con cui teneva sollevato il mento, come se fosse pronta a qualsiasi sfida. Reina si stava sforzando di apparire coraggiosa, ma nascondeva un misto di speranza, preoccupazione e paura che non poteva mostrare in pubblico. Annabeth conosceva quell'espressione. La vedeva ogni volta che si guardava allo specchio. Le due ragazze si soppesarono a vicenda. Gli amici di Annabeth si disposero a ventaglio ai suoi fianchi. I romani mormorarono il nome di Jason, fissandolo sbigottiti. Poi qualcun altro comparve tra la folla e il campo visivo di Annabeth si restrinse. Persile sorrise, con quel suo sorriso sarcastico da piantagrane, che l'aveva irritata per anni, ma che alla fine l'era diventato così caro. I suoi occhi verde mare erano splendidi come li ricordava. I capelli scuri sembravano spazzati dal vento, come se fosse appena tornato da una passeggiata sulla spiaggia. Era perfino più in forma di sei mesi prima, più alto e più abbronzato, più asciutto e muscoloso. Annabeth era troppo scombussolata per muoversi. Aveva la sensazione che, se gli si fosse avvicinata anche di un solo passo, tutte le molecole del proprio corpo avrebbero preso fuoco. Aveva avuto una cotta segreta per lui fin dai dodici anni. L'estate prima si era innamorata sul serio. Erano stati una coppia felice per quattro mesi e poi lui era scomparso. Durante la loro separazione era successo qualcosa, i sentimenti di Annabeth si erano fatti dolorosamente intensi, come se qualcuno l'avesse costretta a rinunciare a una medicina salva vita. Ormai non sapeva più quale fosse la tortura peggiore, se vivere con quella senza trementa o stare di nuovo con lui. Raina drizzò la schiena. Con evidente riluttanza si rivolse a Jason. «Jason Grace, mio ex collega pretore», pronunciò la parola collega come se fosse una cosa pericolosa. «Ti do il mio benvenuto a casa. A te e a questi tuoi amici». Annabeth non aveva intenzione di farlo, ma si lanciò in avanti. Percy corse da lei nello stesso istante. La folla si rigidì. Qualcuno cercò istintivamente le spade che non aveva con sé. Percy strinse Annabeth tra le braccia. Si baciarono e per un momento nient'altro ebbe importanza. Un asteroide avrebbe potuto colpire la Terra e annientare ogni forma di vita e ad Annabeth non sarebbe importato un fico secco. Percy profumava di brizza dell'oceano. Aveva le labbra salate. «Testa d'alghe», pensò lei su di giri. Percy la scrutò in viso. «Dèi del cielo! Non avrei mai pensato di…» Annabeth lo afferrò per il polso e con una sola mossa lo mandò prima per aria e poi a terra, sull'astricato. I romani gridarono. Qualcuno si fece avanti, ma Reina ordinò «Fermi!». Annabeth piazzò un ginocchio contro il petto di Percy e gli piantò un braccio sulla gola. Non le importava di come l'avrebbero presa i romani. Un grumo di rabbia incandescente le si allargò nel petto, un macigno di preoccupazione e amarezza che si portava dietro dall'autunno. «Se osi lasciarmi di nuovo», cominciò con gli occhi che le bruciavano. «Giuro sugli dei che…» Percy ebbe la faccia tosta di scoppiare a ridere. Annabeth sentì che il coagulo di emozioni rabbiose si scioglieva di botto. «Considerami avvisato», replicò Percy. «Anche tu mi sei mancata». Annabeth si alzò e lo aiutò a rimettersi in piedi. Avrebbe tanto voluto baciarlo ancora, ma riuscì a trattenersi. Jason si fece avanti, schiarendosi la voce. «Allora, sì, è bello essere tornato». Presentò Reina prima a Piper, che sembrava un po' seccata di non aver potuto pronunciare le battute che aveva preparato, poi a Leo, che rispose con un sorriso e un rapido segno della pace. «E questa è Annabeth», disse Jason. «Di solito non scaraventa la gente a terra con le mosse di karate. Gli occhi di Reina scintillarono». «Sicura di non essere romana, Annabeth? O di non essere un'amazone?» Annabeth non sapeva se prenderlo come un complimento, ma le porse la mano. «Tratto così soltanto il mio ragazzo», garantì. «Lieta di conoscerti». Reina le strinse la mano con fermezza. «Sembra che abbiamo molto di cui discutere. Centurioni!» Un gruppetto di romani si fece subito avanti, erano chiaramente gli ufficiali anziani, e due ragazzi comparvero al fianco di Persi, gli stessi che Annabeth aveva visto insieme a lui poco prima. Il ragazzone asiatico con il taglio militare aveva più o meno quindici anni. Era carino, somigliava a un cucciolo di panda in sovrappeso. La ragazza era più piccola, forse sui tredici anni, con gli occhi d'ambra, la pelle color cioccolato e i capelli lunghi e ricci. Portava sotto il braccio l'elmo da cavalleria. Annabeth intuì dal loro linguaggio corporeo che si sentivano vicini a Persi. Gli stavano accanto con fare protettivo, come se avessero già condiviso molte avventure. Ricacciò indietro una punta di gelosia. Possibile che Persi e quella ragazza… No, non c'era quel tipo di chimica tra loro. Annabeth aveva passato la vita a imparare a leggere le persone. Era una capacità necessaria per la sopravvivenza. Dovendo indovinare, avrebbe detto piuttosto che il ragazzone asiatico e la ragazza stavano insieme, anche se forse non da molto. C'era una sola cosa che Annabeth non capiva. Cosa stava fissando la ragazza. Continuava a guardare con la fronte aggrottata in direzione di Piper e Leo, come se riconoscesse uno dei due. Il ricordo fosse doloroso. Nel frattempo, Reina stava impartendo ordine agli ufficiali. Dite alla legione di abbassare la guardia. Dakota, avverti gli spiriti in cucina. Dì loro di preparare un banchetto d'accoglienza. E Ottaviano, ha intenzione di permettere a questi intrusi di entrare nel campo? Un ragazzo alto, con i capelli lunghi e radi, si fece largo a gomitate. Reina, i rischi per la sicurezza, non li porteremo al campo, Ottaviano. Reina lo fulminò con un'occhiata severa. Mangeremo qui, nel foro. Oh, molto meglio allora, brontolò lui. Sembrava l'unico a non rivolgersi a Reina con il rispetto dovuto al suo grado, sebbene fosse pallido e mingerlino e per motivi imperescrutabili avesse tre orsacchiotti di peluche appesi alla cintura. Vuoi che ci rilassiamo all'ombra della loro nave da guerra? Sono nostri ospiti. Reina scandì con precisione ogni parola. Gli accoglieremo e parleremo con loro. In qualità di augure, dovresti bruciare un'offerta per ringraziare gli dèi di averci riportato Jason sano e salvo. Buona idea, commentò Percy. Vai a bruciare i tuoi orsacchiotti, Ottaviano. Reina sembra sforzarsi di non sorridere. Questi sono gli ordini. Andate. Gli ufficiali si dispersero. Ottaviano lanciò a Percy un'occhiata di puro odio, diede una squadrata sospettosa ad Annabeth e si allontanò impettito. Percy fece scivolare la mano in quella di Annabeth. Non preoccuparti, Di Ottaviano. La maggior parte dei romani è brava gente, come Frank e Hazel e Reina. Andrà tutto bene. Annabeth si sentì come se qualcuno le avesse avvolto un asciugamano freddo intorno al collo. Udi di nuovo quella risata sussurrata, come se la strana presenza gelida che aveva avvertito sulla nave l'avesse seguita a terra. Alzò lo sguardo verso Largo 2. L'enorme scafo di bronzo scintillava al sole. Una parte di lei avrebbe voluto rapire Percy seduta stante, salire a bordo e levarsi di torno finché era possibile. Non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione che qualcosa stesse per andare storto. E non era assolutamente disposta a correre il rischio di perdere di nuovo Percy. Andrà tutto bene, ripete sforzandosi di crederci. Ottimo, esclamò Reina. Si voltò verso Jason e Annabeth credette di scorgere una sorta di luccicchio famelico nei suoi occhi. Andiamo, parleremo meglio durante il banchetto.